Un caloroso saluto a tutti. Oggi vi offro un'anteprima delle emozionanti puntate di Beautiful in onda dal 3 al 9 luglio. Nell'episodio d'apertura, Zende viene attirato dalle strane atmosfere che avvolgono Paris e decide di porle alcune domande per comprendere cosa sta accadendo. La ragazza, senza mezzi termini, si apre completamente e confessa di nutrire sentimenti profondi per Carter. Nel frattempo, Carter si trova coinvolto in una piacevole conversazione con Quinn, che sembra aver ristabilito una solida connessione con lui. Tuttavia, la situazione prende una svolta drammatica quando Sheila fa il suo ingresso nella dimora di Steffi, scatenando un confronto intenso e aggressivo tra le due donne. Taylor si impegna con determinazione a svolgere il ruolo di mediatrice nel conflitto acceso tra Steffi e Sheila. Tuttavia, proprio quando sembra che la situazione si stia calmando e Sheila sia pronta ad andarsene, Steffi la ferma improvvisamente. Un ricordo importante balza nella mente della giovane, riaccendendo in lei una fiamma di determinazione. Con il cuore colmo di turbamento, Steffi affronta Sheila in modo deciso e inequivocabile, comunicandole che non desidera mai più rivederla. Nel frattempo, Paris fa una scelta coraggiosa e decide di confidare i suoi sinceri sentimenti a Zende, è innamorata di Carter. Anche se inizialmente riluttante, Zende incoraggia Paris a seguire il proprio cuore e a dare una possibilità a questa nuova relazione. Contemporaneamente, Quinn offre un consiglio a Carter per ampliare le sue opportunità di trovare una compagna, suggerendogli di guardare al di fuori dell'ambito della Forrester Creations. Nel frattempo, Sheila si apre con Deacon e condivide la sua decisione di lasciare Los Angeles, lasciando dietro di sé un'atmosfera di incertezza e segreti. Sheila, nonostante le sue intenzioni, continua a nascondere a Deacon il terribile segreto che coinvolge la sparatoria, causando la ferita di Steffi e la tragica morte di Finn. Questo segreto le ricorda direttamente le sue stesse azioni, ma la paura di affrontare le conseguenze la spinge a mantenere il silenzio. Nel frattempo, nella mente di Steffi, i terribili ricordi della notte in cui ha perso Finn affiorano gradualmente. Ancora confusa riguardo ai dettagli dell'attacco e agli istanti in cui è stata colpita, improvvisamente un nome risuona nella sua memoria, Sheila. Con il sostegno incondizionato di Ridge e Taylor, Steffi si sente incoraggiata a ricostruire passo dopo passo gli eventi di quella tragica notte, determinata a scoprire la verità. Sheila, convinta che Steffi stia iniziando a recuperare i suoi ricordi, decide di aprirsi con Deacon e annuncia la sua decisione di lasciare la città, cercando una via di fuga dai suoi rimorsi. Nel frattempo, presso la sede della Forrester Creations, Paris apre il suo cuore a Carter, rivelando di aver finalmente compreso che lui è ancora innamorato di Quinn. Le sue parole suscitano una profonda riflessione in Carter, che si trova di fronte a un bivio sentimentale, dovrà affrontare una scelta difficile riguardo ai suoi sentimenti e alla direzione che vuole dare alla sua vita. Eric e Donna si ritrovano segretamente per coltivare la loro relazione clandestina, mantenendola nascosta agli occhi degli altri. Nel frattempo, Steffi finalmente recupera la memoria e, invece di chiamare immediatamente la polizia, decide di mettere in atto un piano astuto per tendere una trappola a Sheila. Il suo intento è vedere la sua nemica sprofondare emotivamente quando le rivelerà di ricordare ogni singolo dettaglio dell'accaduto. Ridge e Taylor si offrono volontariamente di assistere Steffi nella realizzazione del suo piano, offrendo il loro sostegno incondizionato. Nel frattempo, Eric riafferma a Donna quanto sia felice quando sono insieme, nonostante le sue preoccupazioni riguardo alla situazione con Quinn. Proprio in quel momento, incoraggiata da Carter, che le ha suggerito di affrontare la situazione con il marito, Donna prende una decisione coraggiosa e decide di chiamare Eric per affrontare apertamente la situazione che li coinvolge. Ecco terminano qui le anticipazioni settimanali. Scrivi nei commenti cosa ne pensi. E se il video ti è piaciuto lasciami un mi piace ed iscriviti al canale, per non perdere le prossime anticipazioni di Beautiful. Ciao!